Grazie a tutti Perché adesso abbiamo mangiato Adesso intervisteremo i Macadamzena E qui il pubblico adesso dovrebbe Dovrebbe avanzare Perché tutti ormai abbiamo mangiato Bere c'è tempo Su alzatevi Perché adesso Andy Me Too and the Groove Makers Che è una storia lunga Perché è stato Insomma un complimento che gli è stato fatto Alton Ellis Non stiamo parlando Un grande del reg E l'ha voluto comunque omaggiare E indicarlo È una nomina importante Intanto io direi di dare due link Perché ci sta Noi siamo di Mantra Una piccola radio Una piccola realtà Che però scavalca comunque Tutta l'Italia Perché arriviamo a trasmettere Ma diciamo Ci hanno scritto anche in America Latina Certo gli ascolti Però siamo davvero nel piccolo E noi ringraziamo davvero lo staff Del Crazy Bull Che questa sera ci ha dato Questa opportunità Ragazzi su del mixer Là in cima Ringraziamo Simone Carbone Il grande fonico Eccolo qua Eccolo qua Da tutte le parti Stacca attacca cavi Ragazzi Io direi adesso Caro Ricco Cosa facciamo Un balletto Niente Non lo so Facciamo come Albano e Romina Power Cantiamo non so Ricordiamo di seguirci Se avete una connessione internet Dai due link Dai Al martedì Siamo presenti Su Radio Isa Che è una radio Non convenzionale Perché stiamo parlando Di una web radio Quindi dovete Connettervi col computer Tanto ce l'avete Sicuramente a casa Cliccare sul play Alle sette Sette e mezza Alle diciannove Alle venti Ogni tanto la regia Fa degli scherzi Però ci siamo Voi vi connettete Sentite della musica Un po' Diversa Io clicco Io clicco Dicono dalla regia Giustamente www.radioisa.it E sentite Ogni martedì Ricky Rock DJ E Mirko F Ok ragazzi Allora Ci alziamo Grazie caro Rino Calandra È alla regia Dal nostro cantautore Abbiamo degli elementi Anche di Cipri Della periferia Li vediamo Li vediamo Nel mezzo al pubblico Allora io direi Davvero di avanzare Perché la serata è lunga Avanzate Abbiamo anche Una crew Questi ragazzi Che proporanno Come fanalino di coda Racconteranno un po' Con questa poesia urbana Il disagio Che c'è nella periferia Se si può chiamare Lo street underground Questa crew Che noi Bene o male Abbiamo già sentito Nei locali La scena genovese Comunque come una poesia Perché noi abbiamo Un grosso limite Spesso abbiamo Lasciato da parte L'hip hop Il rap Comunque tutto il cantato Perché la base Comunque è il testo Ricordiamocelo Abbiamo l'occasione Di sentire qualcuno Che invece Lo esegue In italiano E' importante Prendere atto Di questa realtà Che non è neanche nuova Ma ha veramente La storia Che affonda Negli anni 80 Grande Ricky Tu sei sempre Il teorico Della radio Allora ragazzi Io direi di iniziare Ma aspetta Mi sa che dovremmo Improvvisare un monologo Perché i groove makers And the me too And the groove makers Qualche altro link Noi collaboriamo E sponsorizziamo Le net label Cosa sono le net label Una Dillo Mirko Che te comunque Le net label Cosa sono queste net label Mirko Raccontami Per tanti è un'utopia Essere una net label Ovvero No No non è vero Per gli ascoltatori È un'utopia Ovvero scaricare la musica In free download Sembra quasi No Come dire Eh cavolo Allora Non guadagna più nessuno Sì però È talmente immediata La conoscenza dell'artista Che noi siamo anche un po' Per l'autoproduzione L'home recording Ovvero che l'artista stesso Può prodursi Qualitativamente Qualitativamente Produce per se stesso Autoproducendosi E immediatamente Distribuisce la musica In free download Questo discorso Lo abbraccia Il creative commons Che niente Lo trovate Se voi andate su google Sul motore di ricerca Che Che tutti Noi conosciamo Digitate creative commons È un bellissimo mondo Io e Ricky ci siamo Tramite questa etichetta Che è della Basilicata Che vi diamo il link www.diavoletolabel.com Andate a casa E questa sera Vi fate una bella libreria Di musica gratuita Potete scaricare Tutta Adesso Adesso non ci state credendo Però è così Però è così È così Allora ragazzi Che non è l'unica Comunque In tutto il mondo Dall'America Fino ad arrivare All'altra parte del mondo In Giappone L'India L'Indonesia Voi cercate Net labels Ci sono dei grossi archivi Soprattutto archiv.org Che appunto Raccoglie tutte le net label Non è semplice Naturalmente Perché non avete La possibilità Di sentire l'FM Che vi trasmette Quello che decide lei Ma avete voi La voglia Di tornare un po' bambini Di cercare le cose E di trovare anche Dei suoni nuovi Particolari Sentire cantare anche In altre lingue Noi abbiamo L'inglese Che è la lingua Del rock E del reg Qua ci fanno Dei segni Dei volti Segni della regia Io dico che Sono pronti Loro vorrebbero Un applauso Giustamente Vogliono essere chiamati Un bel applauso Stanno arrivando Andimi tu Eccolo qua Andimi tu Eccolo qui Eccolo qui signori Non sono pronti Bellissima Questa è una bella notizia Non sono pronti Non sono pronti Non sono pronti Bellissima Eccolo qui signori Eccolo qui signori Qui signori Questa è una bella notizia